Buonasera, buonasera. Allora, ma è davvero così semplice creare in laboratorio un virus di questo tipo? Io non ho visto la trasmissione, quindi aspetto. Anche noi, infatti. Ce la vediamo insieme stasera. La vediamo fra un'ora. La vedo di sicuro perché, allora, io non sono assolutamente d'accordo però con l'impostazione, nel senso che la comunità scientifica, nella stragrande parte della comunità scientifica, ad oggi continuo a pensare che l'ipotesi più probabile sia quella della zoonosi, cioè del salto naturale. Quello che è vero è che non si può escludere categoricamente l'incidente di laboratorio, ma così come non si può escludere che un ricercatore che stesse lavorando nelle grotte dove ci sono i pipistrelli l'abbia potuto portare nel mercato. Vorrei che fosse chiara una cosa. L'argomento più forte di chi sostiene che ci sia stato un errore in laboratorio, un incidente di laboratorio, nasce dal fatto della vicinanza. Si dice, a Wuhan c'era un centro di ricerca e quindi com'è possibile che a Wuhan sia scoppiata la pandemia? Io invito gli spettatori a seguire anche un bellissimo colloquio che c'è pubblicato sulla rivista Science, in cui quattro scienziati parlano di questo argomento e si confrontano. Noi oggi non possiamo escludere categoricamente l'incidente, ma è sicuramente meno probabile rispetto a una normale zoonosi. La cosa che fa più paura di tutte non è né l'incidente né la zoonosi, ma ovviamente che ci sia stato qualcuno che l'abbia fatto per loro. No, ma quando si parla di lab leak, cioè di fuga da un laboratorio, è proprio di questo che si parla. Questa sera vedremo che gli incidenti di laboratorio non sono delle eccezioni, no? No, no, guardi, pensiamo al SARS, dopo che è stato scoperto che ha causato le infezioni, ci sono stati, se non sbaglio, sette eventi di incidenti, di fughe, di contaminazioni del personale di laboratorio. Quindi può succedere. Quello che sto dicendo è che noi non abbiamo nessuna prova che sia successo. Anzi, l'unico argomento valido è dire era lì, era Wuhan, e quindi com'è possibile che sia successo proprio lì? Questa sera porteremo anche qualche prova del fatto che ci sono delle persone che si sono contagiate, sono prove scritte, sono mail, sono professori, no? Non dire di più, perché sennò si perdiamo tutto il gusto. Però è anche vero che così come non c'è la prova dello spillover, perché mentre nelle altre epidemie in pochi mesi hanno trovato l'animale, in questo caso pensa che le autorità cinesi hanno campionato 80.000 animali e ancora non sono riuscite a trovarlo, così diciamo anche le prove di una fuga del laboratorio sono più o meno uguali. Questo ci dicono gli scienziati che sentiremo stasera e sarà bello, secondo me, magari riapriamo anche il dibattito con Antonella Viola, mi farebbe veramente piacere avere un suo convento dopo la trasmissione. Adesso Antonella, mi raccomando, abbiamo bisogno di concentrazione, perché veniamo invece al presente, all'oggi, abbiamo scelto come sempre tre titoli da commentare insieme. Primo titolo, che è proprio di giornata, il boom di contagi e la nuova variante Delta. Cosa succede in Gran Bretagna? Ecco, che succede? Ma soprattutto c'è il rischio che possa succedere anche da noi? Allora, quello che sta succedendo in Gran Bretagna non dipende dalla presenza della nuova variante, al momento si pensa che intorno al 6% delle infezioni in Gran Bretagna dipendano da questa Delta Plus, che non vuol dire che è più cattiva, quel Plus non vuol dire che è più cattiva della Delta, ma semplicemente che deriva dalla Delta, ha poche mutazioni in più rispetto alla variante Delta. Quello che sta succedendo in Gran Bretagna dipende dal fatto che tutte le misure di sicurezza sono state eliminate, quindi niente mascherina, niente distanziamento, niente Green Pass, quindi la vita è tornata alla totale normalità. Però sono vaccinati, sono vaccinati con AstraZeneca, quasi tutti, no? Non tutti, ovviamente non tutti sono vaccinati, quindi c'è ancora una parte della popolazione che non è vaccinata e sappiamo infatti che il virus circola anche tra i non vaccinati, ormai questa è una cosa che sappiamo, la variante Delta è una variante che permette il contagio in alcuni casi anche delle persone vaccinate, di meno rispetto ai non vaccinati, però lo permette, quindi infatti il numero di casi è molto alto, ma i ricoveri non sono così alti. Quello che è interessante notare è che però si è assistito a un aumento dei ricoveri nei ragazzi, mentre in tutte le fasce della popolazione che sono vaccinate i ricoveri sono in calo e sono più bassi rispetto per esempio a gennaio, quando c'era il picco della pandemia, nei ragazzi c'è stato un aumento del 34%, quindi questa è una scelta un po' azzardata probabilmente quella che il governo ha fatto. Insomma il vaccino è un giubbotto antiproiettile, lo diciamo sempre, il vaccino è come in una guerra avere un giubbotto antiproiettile, non è che ti garantisce la salvezza totale, ma rispetto a chi non ce l'ha. Tant'è vero che continuano a portare le mascherine in Italia, e facciamo bene. A proposito professoressa, oggi l'Austria ha deciso che d'ora in poi metterà in lockdown soltanto i non vaccinati, che ne dice? Mi sembra una scelta intelligente, nel senso, diciamo prima di tutto che useranno anche loro il Green Pass per accedere al lavoro, quindi non siamo gli unici, dal primo novembre ci sarà l'uso del Green Pass e poi se il numero di ricoveri negli ospedali supererà una certa capienza, il 30% se non sbaglio della capienza, ecco che ci sarà il lockdown, però giustamente il lockdown riguarderà principalmente i non vaccinati, perché oggi sono i non vaccinati che sono prevalentemente in terapia intensiva, quindi è una scelta saggia. Coerente. Secondo titolo, lo introduciamo con un piccolo video, con delle immagini di questa settimana, dell'incontro fra le due dame della politica tedesca, la von der Leyen e la Merkel, vedete Ursula che si avvicina per dare la mano ad Angela Merkel e la Merkel prudente, come un po' per se tutta la Merkel in questa scena, la sua prudente. C'è anche la sua passione per la scienza. Sì, in effetti, ecco, il titolo, Covid, l'immunologo Signorelli del San Raffaele dice per baci e strette di mano è ancora troppo presto, c'è il rischio di un contagio indiretto. Ecco, insomma, possiamo o non possiamo stringerci la mano? No, no, io direi che no, ma direi che in generale se perdessimo questa abitudine da un punto di vista della nostra salute non sarebbe male. Adesso comincerà a circolare l'influenza, no? Alla fine le mani ce le portiamo sul viso, naso, bocca, quindi tutto sommato forse il pugnetto che abbiamo imparato a usare in questo periodo potremmo continuare ad usarlo almeno per un po', anche secondo me è troppo presto per passare a baci, a bracci e strette di mano. Lei lo sa, no, perché si stringeva la mano? Com'è nata la stretta di mano? È nata perché quando c'erano le armi tu davi la mano per dimostrare che non eri armato, perché adesso l'arma è il telefonino con cui scriviamo le cose orribili sui social, l'ideale sarebbe salutarsi dandosi dei colpi col telefonino. Vabbè, senta, vabbè, niente, quindi non ci possiamo ancora dare la mano, Riccardo. No, a me ci siamo dati il pugnetto. No. Ci siamo dati il pugnetto, va bene. Qui ci sono altri problemi, in questo momento in Italia ci sono i bambini che si prendono a ceffoni limitando il gioco, quindi per carità. Veniamo al terzo titolo, professoressa. Questo lo conoscerà sicuramente perché è quello di un suo editoriale sulla stampa che si intitola Lui e lei due cervelli che lavorano in modi identici. Ora noi parleremo tra poco della polemica, Riccardo, innestata dalle parole del professor Barbero sulle cosiddette, lui ha detto così, differenze strutturali tra uomo e donna. Ecco, a proposito di queste differenze strutturali, l'anatomia che cosa ci dice? Guardi, ci dice che non ci sono. Nel senso, il cervello delle donne è più piccolo rispetto a quello degli uomini, in media intorno all'11% più piccolo. Questo perché un corpo più piccolo ha bisogno di un cervello più piccolo. Lei pensi che per esempio i polmoni sono circa 22% più piccoli, la tiroide è il 25% più piccola. Quindi il cervello tutto sommato non è tanto più piccolo. Queste sono le uniche differenze. Le differenze riguardano le dimensioni e quindi il rapporto tra le varie aree del nostro cervello in base alle dimensioni. C'è uno studio molto bello che è stato pubblicato quest'anno che fa proprio un'analisi di tutta la letteratura degli ultimi 30 anni, di neuroscienze, di studi che sono stati condotti per cercare differenze e che alla fine conclude dicendo che le differenze sono veramente minime e dipendono prevalentemente dalle dimensioni, quindi da questo rapporto diverso dovuto al fatto che abbiamo corpi di dimensioni diverse. Quindi no, i nostri cervelli non funzionano in modo diverso, non ci sono delle attitudini maschili, attitudini femminili. Dobbiamo ricordare che invece il nostro cervello è molto plastico, soprattutto quando siamo bambini. E quindi l'azione degli stereotipi di genere, quelli sì che modificano il nostro cervello. Ecco, questo mi interessa, i condizionamenti sociali, l'esistenza del patriarcato, diventano strutturali, incidono. Esatto, quindi se Barbero come immagino si riferiva a quello, cioè al fatto che dobbiamo eliminare questi stereotipi di genere per permettere alle donne e agli uomini di essere veramente pari e di giocarsela su un unico terreno ad armi pari, appunto, allora ha assolutamente ragione. Però diciamo che il termine differenze strutturali è un po' infelice, ecco, perché fa pensare che ci sia un cervello maschile e un cervello femminile. Quindi come lo possiamo tradurre? Ci aiuti? Invece di differenze strutturali possiamo parlare di differenze ambientali. Possiamo parlare di differenze culturali, di differenze, o meglio, dell'azione degli stereotipi sul nostro cervello. Noi dobbiamo combattere gli stereotipi che continuano ad agire, ad essere perpetrati verso le bambine e verso i bambini, che spingono i bambini a essere aggressivi, competitivi, maschiacci, e le bambine a essere carine, delicate e bamboleggianti. Ecco, questo è quello che dobbiamo combattere. Comunque, scusi, detto questo, il motivo per cui le donne non fanno carriera non è dovuto alla mancanza di aggressività, è dovuto al fatto che storicamente il potere è stato nelle mani maschili. C'è un modello patriarcale di società. Grazie, professoressa. Noi ci vediamo sabato prossimo, ma lei non ci molli, continui a guardarci, perché parleremo ancora di questo argomento e poi dopo deve guardare Iacona. Le lascio anche il numero. Poi ci dobbiamo sentire. No, 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 ci scriviamo. Grazie, professoressa. A sabato prossimo.